Con l'inaugurazione della mostra Salvati e Ritrovati hanno preso il via a Montevago le celebrazioni in ricordo del 54esimo anniversario del sisma che la notte fra il 14 e il 15 gennaio del 1968 devastò la Valle del Belice. La mostra Salvati e Ritrovati, i tesori di Montevago restituiti alla comunità promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Arcidiocesi di Agrigento mette in vetrina nella nuova chiesa madre i reperti e gli oggetti sacri rinvenuti durante i lavori di catalogazione e restauro della vecchia cattedrale distrutta dal terremoto. La stessa location ospita l'esposizione di Acquerelli di Giovanni Bavetta. Proprio in questi giorni sono stati ultimati i lavori di recupero della vecchia chiesa madre, il primo straccio dei lavori e quindi ci sembrava opportuno fare cadere la consegna di questi lavori con il 54esimo anniversario del terremoto. Ovviamente durante quest'anno tanti reperti sono stati raccolti e anche qui grazie all'aiuto che è stato dato dal Museo Diocesano e dalla direttrice del museo, dalla dottoressa Brancato, abbiamo fatto un lavoro di assemblaggio. Quello che era stato preso e trovato tanti anni fa e che è conservato al Museo Diocesano è stato portato a Montevago perché i montevagesi potessero apprezzarne il valore e nello stesso tempo tutti i reperti che in quest'anno sono stati ritrovati sono stati messi puliti, sistemati e anche qui messi a fruizione della comunità.